Musica Bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con Spazio Salute, il settimanale in collaborazione con l'opera di Padre Pio Casa Sollievo della Sofferenza. Oggi parleremo dei comitati etici e naturalmente un focus sul comitato etico dell'ospedale di Padre Pio. Abbiamo ospite nei nostri studi il dottor Giuseppe Fasanella, medico legale di Casa Sollievo della Sofferenza e componente del comitato etico dell'opera di Padre Pio. Buonasera, benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Bene, allora partiamo da una domanda che servirà a far capire ai nostri amici di che cosa vogliamo parlare questa sera. Che cosa si intende per comitato etico? È una bella domanda questa. Già il termine comitato fa pensare a un comitato di quartiere, un comitato di lotta. Ma tant'è, nella lingua a volte vengono acquisiti dei termini, poi vengono utilizzati una prima volta, una seconda volta e poi diventano la norma. E per cui è un termine che si è affermato questo. Comitato di bioetica è un organismo, un gruppo di persone che è composto da personale sanitario e da personale non sanitario che ha la finalità di verificare e di garantire che siano rispettati i diritti e la sicurezza delle persone nell'ambito delle scienze della vita. Quindi il comitato di bioetica ha tre finalità riconosciute. La prima finalità è la finalità di revisione dei protocolli di ricerca scientifica, protocolli di sperimentazione farmacologica. Una seconda finalità è quella formativa culturale nell'ambito della bioetica. E la terza finalità è quella di offrire dei pareri su argomenti di bioetica e parliamo di bioetica generale, come per esempio i trapianti di organo, la fecondazione artificiale, l'ingegneria genetica, la manipolazione genetica, eccetera, eccetera, e anche problematiche etiche che sorgono nell'ambito dell'assistenza clinica e quindi nell'ambito della bioetica clinica. Allora, dottor Fasanella, andiamo a inquadrare gli scenari culturali e anche storici che hanno visto la nascita dei comitati etici. I comitati etici di bioetica nascono insieme alla bioetica, per cui le origini si sovrappongono, vanno di pari passo. Negli anni 60-70 lo scenario culturale è uno scenario che presenta i nuovi progressi della medicina, si pensa all'ingegneria genetica, alla fecondazione in vitro, alla possibilità di trapianti, alla possibilità anche di dialisi, prima non era possibile, ai progressi nell'ambito della rianimazione cardiopolmonare. Questo nuovo scenario poneva nuovi interrogativi, interrogativi etici sul quale era la condotta etica più vera, insomma più corretta. Quindi questo è lo scenario culturale. Poi vi furono degli elementi occasionali che suscitarono negli Stati Uniti, perché è lì l'origine della bioetica, nel mondo anglosassone avviene questa nascita e anche quella dei comitati etici, negli anni 70. Noi abbiamo alcune sperimentazioni che furono portate all'attenzione dell'opinione pubblica, sperimentazioni che suscitarono un ampio dibattito perché non erano state condotte, secondo norme e principi etici rispettose della vita e della dignità delle persone umane. Per esempio una sperimentazione fu condotta su dei minorenni istituzionalizzati e a questi minorenni fu iniettato il virus dell'epatite B. Un'altra sperimentazione riguardava alcuni contadini negri, insomma affetti da sifilide e in questa popolazione alcuni non vennero trattati con la penicillina perché il ricercatore voleva verificare l'evoluzione naturale della malattia. Un'altra sperimentazione che suscitò un ambito dibattito negli Stati Uniti fu quella relativa all'iniezione di cellule cancerose in soggetti anziani e adulti non affetti da cancro. Ora queste sperimentazioni suscitarono veramente una reazione generale, tant'è che a livello federale negli Stati Uniti fu istituita una commissione federale per la protezione dei soggetti umani partecipanti alle sperimentazioni scientifiche. Non che queste furono alcune sperimentazioni, perché la ricerca è fondamentale nel progresso delle scienze e della medicina. La maggior parte delle ricerche sono condotte correttamente, anzi hanno costituito il fondamento di tutto il progresso e tutto il benessere che abbiamo avuto in questi anni. Però queste ricerche erano ricerche negative, non etiche e questa commissione federale lavorò per ben 4 anni, dal 74 al 78 e alla fine fu pubblicato anche un rapporto importante che è una pietra miliare nella storia della bioetica, il cosiddetto rapporto Belmont. Questo rapporto è importante per tutta una serie di motivi e uno dei tanti è appunto che veniva ribadito l'opportunità, la necessità di sottoporre alla revisione di comitati etici le sperimentazioni farmacologiche da condurre negli ospedali, negli enti di ricerca. Tant'è che il governo federale pose una condizione a quel tempo ai ricercatori, nessuna ricerca poteva ricevere i fonti federali se non aveva avuto in precedenza l'approvazione del comitato di etica. Quindi è un organismo di tutela e è un organismo di tutela che deve dare garanzia pubblica di questa tutela. Benissimo, dunque un organismo di tutela. Oltre alla responsabilità di garantire la tutela dei diritti della persona, i comitati etici possono svolgere anche la funzione consultiva e proporre iniziative di formazione. Sì, questa è una funzione importante perché noi vediamo che lo sviluppo dei comitati etici è andato di pari passo con lo sviluppo della bioetica e quindi vi sono dei punti di incontro, dei punti che appartengono a tutti e due gli ambiti. È chiaro che il comitato di bioetica deve svolgere, ha questa funzione di svolgere un'attività formativa. Per esempio noi proprio nell'ultima seduta del comitato etico che si è svolta ieri abbiamo proposto, proporremo all'ufficio formazione, quindi al comitato scientifico per la formazione dell'ospedale, un evento formativo sulla diagnosi prenatale, da rivolgere agli operatori sanitari e a tutti gli interessati che sono nel nostro ospedale e quindi ha anche questa funzione, il comitato etico. In ogni ospedale c'è un comitato etico? I comitati etici si sono diffusi, abbiamo detto, negli Stati Uniti a partire dagli anni 70. Guardi, nel 1983 l'11% degli ospedali statunitensi aveva un comitato di bioetica. e nell'89 la percentuale è salita al 60% circa e nel 99 oltre il 90% a un comitato di bioetica. Ora, in Italia si sono diffusi negli anni 90. Vi sono varie tipologie di comitati di bioetica. Due tipologie fondamentali. La prima è quella del comitato etico che rivede i protocolli di ricerca sperimentale, per indendereci il protocollo di ricerca su un nuovo farmaco, per esempio antitumorale. E quando il farmaco non è ancora in commercio, deve sottostare a tutta una serie di verifiche e di sperimentazioni. Si comincia con le prove in vitro, si può passare anche a delle prove sull'animale e poi si passa alle varie fasi sull'uomo. Vi sono la fase 1, la fase 2, la fase 3 e la fase 4. La fase 1 è sui volontari sani, tranne nel caso di, per esempio, di un chemioterapico, di un farmaco nuovo antitumorale, che non si può somministrare a una persona sana, a un volontario sano. Quindi si comincia la prima fase sulla persona malata. Poi vi sono le varie fasi, la seconda, la terza, e sono le fasi più importanti, sono tutte importanti, ma sono cruciali la seconda e la terza, perché con la seconda fase si comincia con un piccolo numero di pazienti, si comincia a verificare la sicurezza del nuovo farmaco e si cerca anche qual è la dose ottimale per l'uomo, quella che dà il maggiore beneficio e fa correre meno rischi alla persona. Quindi le prime fasi della sperimentazione riguardano il dosaggio del farmaco, il dosaggio ottimale. Poi si allargano le indicazioni, nel senso che vengono arruolate sempre più persone e lo studio più scientifico è lo studio controllato in doppio cieco, laddove c'è un confronto attivo, per cui si confronta il nuovo farmaco contro, nei confronti della terapia standard o della terapia in uso, se ci sta, se esiste in quel caso. Quindi questa è una prima tipologia. L'altra tipologia di comitato etico è il comitato etico che esprime pareri per quanto riguarda i casi clinici, perché possono essere dei casi in cui il clinico ha necessità di avere un supporto anche etico, anche da parte del comitato etico per prendere una decisione, perché non tutte le decisioni in medicina sono decisioni facili. E così possiamo fare adesso un breve escursus sul ritornare all'origine del comitato etico. Per esempio, quindi i comitati etici nascono come comitati di revisione dei protocolli di sperimentazione, ma nascono anche per dirimere questioni in ambito assistenziale. e il classico, per esempio, nella letteratura bioetica è il caso, uno dei primi casi clinici che sono stati discussi a livello bioetico, il caso della Karen Kailan, una donna statunitene, una giovane donna che per l'assunzione di una dose eccessiva di farmaci entrò in uno stato comatoso, cui fu portata in rianimazione, fu quindi sostenuta tramite un respiratore automatico e alimentata verso un dino naso gastrico. La questione dibattuta a quel tema, siamo negli anni 76, la questione dibattuta fu questa. I genitori della ragazza chiesero che fosse staccato il respiratore. La clinica dove era ricoverata questa giovane si è rifiutata, si rifiutava, i medici non erano d'accordo perché pensavano che staccando il respiratore si anticipava il momento della morte, quindi si praticava una eutanasia. Si è arrivato in tribunale e il giudice, basandosi su una ricostruzione su cui si è molto discusso, adesso non abbiamo il tempo per approfondire questo caso, i giudici autorizzarono, per farla breve, il distacco del respiratore automatico avvalendosi anche del parere di esperti di un comitato. Vedete che il comitato di bioetica lo ritroviamo anche in questi casi discussi a livello anche internazionale. Poi cosa successe? Successe che fu staccato il respiratore, la diagnosi non era ancora stata precisata, per cui la ragazza non morì, perché si trattava di uno stato vegetativo persistente, per cui il respiratore non era necessario in quella condizione, ma questo si è potuto sapere dopo, poi la giovane morì a distanza di 10 anni per un'infezione polmonare. Quindi il dibattito nasceva e si approfondiva su questi argomenti. Possiamo citare il rapporto Belmond, che è la conclusione della Commissione federale dell'istituita negli Stati Uniti negli anni 74-78. Questo rapporto diceva che le sperimentazioni dovevano essere riviste dai comitati di bioetica e presentava e quindi approfondiva i tre principi della bioetica cosiddetta anglosassone, il principio dell'autonomia, il principio di beneficialità e il principio di giustizia. Ora, su questi tre principi si è svolta un'ambia riflessione bioetica e quindi vede che questi principi ritornano nelle problematiche affrontate dai comitati di bioetica. Quindi bisogna dire che i comitati di bioetica in generale si rifanno alle carte internazionali, alla dichiarazione di Helsinki. Quindi in qualche maniera in generale possiamo dire che la tutela della persona è uno dei principi e uno degli obiettivi fondamentali dei comitati di etica. Quindi in questo senso noi ci avviciniamo molto al modello personalista, della bioetica personalista, laddove con i principi, con la gerarchia dei principi che ritroviamo in questo modello personalista, insomma riusciamo a fare ordine anche tra questi tre principi della bioetica anglosassone. Ecco, che si chiama modello personalista? Modello personalista è un modello che ispira le costituzioni degli stati occidentali moderni e il modello personalista rispetto ad altri modelli pure esistenti nel panorama bioetico internazionale riesce secondo me a garantire di più la persona e l'individuo umano, perché tra i suoi principi fondamentali abbiamo il principio della difesa della vita, che è un principio fondamentale. Non è il principio più importante, ma è il principio fondamentale. Senza la vita non si può esprimere nemmeno la libertà della persona. Poi abbiamo il principio terapeutico, che è il principio classico della medicina, agire per il bene del paziente o della totalità. Pio XII parlava del principio della totalità nei suoi discorsi e già negli anni 50 il Papa diceva che si può agire su una parte per il bene del tutto, è il principio terapeutico, perché c'è la inviolabilità della persona e l'inforabilità della vita umana. Poi c'è il principio della libertà e della responsabilità e qui abbiamo richiamato il principio dell'autonomia della bioetica anglosassone, ma c'è un completamento, perché l'autonomia quando diventa assoluta non rende conto del complesso rapporto medico-infermiere-paziente. E il principio della libertà è un principio fondamentale, è un principio importantissimo, ma la libertà deve essere legata alla responsabilità. Parliamo del comitato etico di casa sollievo. E poi c'è il principio di giustizia, il principio di socialità e sussidiarietà, quindi non bisogna dare tutto a tutti, ma bisogna dare a tutti quello che è necessario, quello che è giusto. Benissimo, allora adesso apriamo un focus sul comitato etico di casa sollievo della sofferenza, nato nel 1995. Nel 1995. In Italia i comitati di bioetica si sono diffusi negli anni 90 e nel 90 fu istituito a livello nazionale il comitato nazionale di bioetica, perché abbiamo comitati di bioetica ospedalieri, quindi ogni ospedale può avere il proprio comitato di bioetica, poi abbiamo anche dei comitati che a parte vengono istituiti da organismi nazionali o anche sovranazionali. In Italia abbiamo questo comitato di bioetica nazionale presso il governo italiano e ha prodotto in tutti questi anni veramente tanti pareri, tanti documenti su questioni, tutte le questioni della bioetica, quindi ha trattato di bioetica fondamentale, generale, di bioetica generale, quindi i trapianti, l'ingegneria genetica, la diagnosi plenatale, i comitati etici, quindi c'è un documento sui comitati, non solamente uno, più di uno, documenti sui comitati di bioetica. Io continuo ad esprimere questi pareri, uno degli ultimi pareri riguardano per esempio la formazione di ibridi o ibridi citoplasmatici degli organismi interspecie, quindi veramente è un interesse variegato. Poi il comitato ospedaliero, quindi il comitato di bioetica della Casa Solleva della Sofferenza è un comitato che è costituito da 14 membri. e sono membri che sono personale sanitario, sono medici, infermieri e personale anche non medico. Ecco, quindi i componenti di un comitato etico non devono essere… Sanitarismo interdisciplinare, sì, sì, non devono essere tutti i medici o infermieri. Per cui, e questo perché? Perché si va a discutere e si discute di argomenti che hanno una natura interdisciplinare. Quindi la valenza degli argomenti trattati dal comitato etico ha una valenza interdisciplinare, perché si passa dall'etica, dalla filosofia alla giurisprudenza, dalla medicina alla biologia. E quindi, per esempio, i nostri componenti sono anche… c'è la professoressa Colucci che è una giurista dell'Università di Siena. Abbiamo il rappresentante anche del volontariato, come rappresentante della società e quindi, perché la società ha un ruolo importante in queste questioni, che non sono questioni che riguardano solamente i medici o gli infermieri, riguardano tutti perché riguardano l'uomo nelle prerogative fondamentali, perché tra le questioni di bioetica, per esempio la professoressa fondamentale è se è possibile conoscere i principi oppure no. Questa è la premessa di tutto l'argomento di bioetica. E nel momento in cui si possono conoscere i principi, quali sono i principi che si possono conoscere, quali sono i principi che devono essere di riferimento oppure no. Noi viviamo in un'epoca di relativismo etico, per cui i modelli di bioetica sono più di uno. Dottor Fasana, abbiamo visto nella foto i vari componenti del Comitato Etico di caso sollievo della sofferenza, al centro il cardinale Elios Grecia, già presidente della Pontificia Accademia della Vita, che è il presidente di questo comitato. Sì, è il presidente di questo comitato e è stato il primo ordinario di bioetica in Italia. La prima cattedra di bioetica istituita in Italia è quella che ha visto il professor Sos Grecia come ordinario di bioetica. Qui un'altra immagine con il nostro arcivesco, il signor Michele Castoro. Sì, poi l'istituto di bioetica che ha fondato il presidente del nostro comitato di bioetica produce tanti pareri e tante pubblicazioni. Ne voglio ricordare una sola perché è stata tradotta in molte lingue, anche in russo, è il manuale di bioetica del nostro cardinale Sgreccia. E quindi è una guida sicura per affrontare i problemi, le problematiche etiche. Sempre all'ordine del giorno poi. E questo è un argomento molto importante e anche vasto, dottor Fasanella. Sicuramente oggi non abbiamo esaurito tutte le vaste, appunto tutto quello che c'era da dire su questo argomento molto vasto, appunto. Quindi penso che sicuramente un'altra puntata di Spazio Salute potrà essere dedicata al comitato etico. Bene, volentieri. Grazie. Bene. Grazie a lei per essere stato con noi quest'oggi. Spazio Salute di questa settimana termina qui. Appuntamento alla prossima.